Termina 5-1 Ternana-Catanzaro, una sconfitta storica per i giallorossi che crollano nella seconda frazione a causa di un blackout mentale e fisico e non riescono a dare continuità a quella che era stata una bella pagina di storia scritta in Coppa Italia contro il Genoa in uno stadio molto importante come quello del Ferraris. Per quanto riguarda l'analisi della partita fondamentalmente il Catanzaro non è mai sceso in campo tranne gli ultimi 10 minuti del primo tempo, tant'è che il duplice cambio fatto da Mr. Calabro nel primo tempo rilevando al campo Altobelli e Contessa per dare spazio a Verna e Di Massimo era risultato una mossa positiva, tant'è che il Catanzaro aveva finalmente iniziato a macinare del gioco e a creare delle occasioni importanti infatti dopo aver sofferto il ritmo alto della Ternana e il loro pressing alto l'ingresso di Di Massimo che ha avuto un grande impatto sulla gara proprio grazie a una sua giocata nello stretto nell'area avversaria il Catanzaro conquista un calcio di rigore realizzato perfettamente da Massimiliano Carlini e proprio sul finale, sul chiudersi del primo tempo rischia clamorosamente di ribaltare con un 1-2 che sarebbe stato clamoroso la partita con un colpo di testa di evacuo che finisce di poco a lato per quanto riguarda il secondo tempo invece il Catanzaro non riesce a riproporre ciò che di buono si era visto negli ultimi 10 minuti e crolla contro una Ternana del tutto spietata tant'è che errori grossolani da giocatori di comprovata esperienza come per esempio Corapi e Pinna sono forse l'emblema di ciò che è stato questo blackout fisico ma soprattutto mentale da parte dei giallorossi scesi in campo nel secondo tempo basti pensare all'errore del capitano in occasione del gol della Ternana dove appunto piuttosto che spazzare la palla ha intrapreso un'uscita palla al piede che poi costerà al Catanzaro il gol oppure l'intervento scelerato da parte di Pinna sull'attaccante della Ternana che non era assolutamente in posizione di pericolo eppure finisce per falciare clamorosamente l'avversario rosso-verde causando il rigore che costerà al Catanzaro il 5-1 finale una sconfitta storica perché il Catanzaro effettivamente non subiva un passivo così importante cioè di 5 reti dal 2004 contro il Vicenza in quel caso il Catanzaro militava in Serie B invece oggi arriva questa sconfitta cociente che adesso ovviamente mette molta più pressione sul lavoro di Mister Calabro e anche sui giocatori che scenderanno in campo nelle prossime partite ovviamente il Catanzaro dovrà lavorare sotto tutti i punti di vista sia quello tattico che quello mentale però in questo caso bisognerebbe fare un discorso separato per quanto riguarda Mister Calabro oggi è apparso in assoluta confusione come da inizio anno c'è da dire che il Catanzaro non ha mai incantato quest'anno però non aveva mai disputato una partita così negativa oggi veramente la Ternana ha dominato tutte le zone del campo nel corso dei 90 minuti fatta eccezione per quegli ultimi 10 minuti in cui il Catanzaro aveva un po' tolto la testa fuori dal sacco però veramente nel secondo tempo la Ternana ha tolto fuori tutta la sua qualità e c'è da dire che il Catanzaro non ha fatto niente per opporsi quindi per quanto riguarda Mister Calabro c'è da lavorare nella ricerca di quella che è la quadratura di questa squadra perché effettivamente ancora non è stato trovato il modulo adatto a questi giocatori non si capisce se effettivamente il modulo adatto sia il 3-5-2 se magari sia il 3-4-3 oppure del tutto un modulo che ancora non abbiamo visto c'è anche molta confusione nella scelta degli interpreti per esempio oggi sono stati proposti dal primo minuto Altobelli e Contessa ma si sono rivelati un flop assoluto oppure non si capisce ancora se la coppia Carlini-Corapi possa coesistere effettivamente oppure come fare entrare in squadra un bomber come evacuo per quanto riguarda l'analisi della gara invece c'è stato un blackout assoluto mentale da parte dei giocatori ecco non vorrei dare la giustificazione della condizione fisica perché è vero il Catanzaro ha disputato diverse partite ravvicinate alcune molto importanti come per esempio la trasferta di Genova al Ferraris però queste sono partite che si preparano da sole soprattutto mentalmente ed è inaccettabile che i giocatori del Catanzaro scendano in campo senza motivazioni soprattutto nella seconda frazione è stato veramente palese agli occhi di tutti la mancanza di determinazione, la mancanza di voglia di andare a fare un risultato che sarebbe stato molto molto importante per la piazza vista comunque la caratura di una ternana che ovviamente si è comportata come da pronostico nel senso che con questa vittoria comunque riconquista la vetta del campionato e si conferma come miglior attacco del Gioner C dalla nostra ovviamente possiamo dire che è apparsa veramente con vehemenza questa confusione sia tattica che mentale quindi sia da parte del tecnico Calabro e sia da parte dei giocatori scesi in campo e c'è da lavorare duramente perché lo stesso Calabro aveva affermato che questo Catanzaro se la sarebbe giocata con tutti alla pari ed effettivamente andando poi a confrontare i giocatori sulla carta il Catanzaro dispone di giocatori di comprovata e assoluta esperienza e non può permettersi di fare figure del genere oggi veramente un secondo tempo imbarazzante che speriamo di non dover vedere più perché una sconfitta del genere è molto pesante e bisognerà lavorare per rimettersi in sesso il prima possibile anche perché ora ci aspetta una partita molto importante in casa contro il Palermo e poi la trasferta ad Avellino che sappiamo essere una squadra in salute e quindi c'è bisogno di dare delle risposte il prima possibile sia da parte del mister ma soprattutto da parte di Coro che scenderanno in campo dalla nostra vi rimandiamo agli aggiornamenti sul sito www.uscatanzaro.net e ringrazio tutti gli utenti che hanno visionato il video e vi rimandiamo alla prossima partita un saluto